Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento che tremavo al sol pensiero di fare il wrap up dell'ultimo periodo, chiamiamolo così, perché rimandavo, rimandavo, rimandavo e sapevo che più avessi rimandato peggio sarebbe stata la situazione e infatti, boh, preparatevi, spero abbiate una tazza di tè, siate comodi sul divano oppure stiate facendo le pulizie o un grande viaggio lunghissimo perché questo video non so quanto durerà, ve lo dico subito e niente, a forza di rimandare mi sono inguaiata da sola perché non avevo fatto il wrap up psivo, non avevo fatto il wrap up di maggio e giugno eccetera quindi morale della favola, adesso vi racconto un po' di libri che ho letto nell'ultimo periodo, più o meno da maggio in poi e non sono tutti però, di alcuni ci sono già le recensioni o ci saranno le recensioni singole detto ciò, già che durerà una valanga di tempo, non c'è bisogno che io continui a perdere minuti quindi passiamo alle recensioni cosa ho letto in tutti questi mesi? Un sacco di roba bellissima tra l'altro c'è poco fantasy per essere un mio wrap up però avevo voglia di esplorare nuovi mondi e nuove cose infatti il primo libro del quale vi parlo è 7 ragazze imperdonabili di Maria Antonietta che poverino è pieno di polvere perché l'ho messo nel punto più polveroso della casa allora io se mi seguite da un po' sapete già che sono una grande fan di Maria Antonietta lei mi piace tantissimo, è una delle mie artiste italiane preferite perché riesce ad essere brava, limpida e a veicolare messaggi nei quali io mi ci ritrovo moltissimo la conosco da quando aveva la sua prima band, cioè gli Van Grist che sono una delle mie band italiane prefe anche se si sono sciolti un sacco di anni fa e niente, detto ciò, non siamo qui a parlare di musica, vedete che già mi ero esaltata ma non è così, stiamo qua a parlare del primo libro di Maria Antonietta che è 7 ragazze imperdonabili ovvero, che cos'è questa cosa? è una raccolta di poesie e racconti dedicate a 7 donne che Maria Antonietta ama Letizia, anzi perché se la chiamo Maria Antonietta sembro scema che Letizia ama e ammira e ci sono figure molto diverse tra loro c'è Emily Dickinson, Silvia Plass, ma c'è anche Giovanna Darko per dirvi Etty Illesum, c'è Antonia Pozzi che è una poetessa che io amo molto insomma c'è un hummus di personaggi molto diversi tra di loro e alle quali praticamente è diviso in capitoli il libro lo vedrete molto sottolineato praticamente ogni titolo ha un nuovo capitolo che si apre dedicato a un personaggio in cui c'è un'illustrazione un piccolo racconto dedicato e poi una serie di poesie ispirate da queste figure allora, non so come dirlo in termini più semplici se non che a me è piaciuto moltissimo ci sono tante cose secondo me interessanti all'interno di questo volume che parlano soprattutto dell'universo femminile di cosa significhi essere una donna fondamentalmente viaggiando attraverso le vite di personaggi molto diversi tra loro perché anche solo pensare a Sylvia Plath e a Emily Dickinson sono cose che apparentemente ci sembrano distante anni luce però diciamo che in ogni piccolo racconto riusciamo a vedere un aspetto sul quale forse Letizia ha ragionato molto perché forse è quello che l'ha più colpita è racconta un frammento di vita che affronta una difficoltà del personaggio come se fosse una lettera a volte come se fosse un breve brano tratto da un diario eccetera che racconta un episodio non sempre del tutto limpido come episodio ma magari una raccolta di pensieri che si riferiscono a tante cose insieme devo dire per me è molto intenso anche le poesie sono davvero molto precise in alcuni versi e sicuramente c'è un uso molto interessante della metrica anche la scelta delle parole che io riconosco ormai perché davvero penso che ogni autore faccia una ricerca stilistica che ha molto a che fare con le parole con il linguaggio e con il vocabolario in questo caso Maria Antonietta è lì insomma si percepisce si riesce proprio a scovare tra le varie poesie soprattutto il suo linguaggio quello che lei ha già trasmesso in anni e anni di musica insomma tante cose che secondo me ci portano un po' a casa noi fan e possono rendere accessibile anche con un mezzo molto diverso come questo il suo mondo anche ai lettori non lo so l'ho trovato molto molto bello molto intenso anche originale come modo di veicolare alcuni messaggi diciamo che il mio problema principale con tutta questa raccolta è che Letizia è molto religiosa quindi ci sono continui riferimenti al divino e io ho un problema con questa cosa perché ai miei occhi di persona molto atea lo rende intangibile lo rende fantastico non la prendete come un insulto se siete credenti però per i miei canoni il mio modo di vedere il mondo questo è un po' il limite che c'è dentro questo libro perché per il resto sensazioni la rappresentazione di alcune di alcune crisi che noi viviamo sono molto forti invece all'interno della raccolta e devo dire che sono rimasta piacevolmente stupita ero già pronta ad odiarlo perché chissà cosa poteva combinare invece è proprio brava Letizia ve lo consiglio se volete una cosa che unisca sia poesia che brevi racconti brevi scritti insomma dedicate a donne fantastiche meravigliose tante poetesse e non solo dopodiché ho riletto in realtà perché l'ho lessi quando ero alle superiori per me o in primo o in secondo superiore non ricordo bene Luck in Shadows ovvero l'arciere di Carrie di Lynn Flewelling che è forse il libro più amato no togliendo il forse è la serie più amata di Elena di Miss Nerily e quindi ho detto vabbè dai la riprendo perché tanto non mi ricordavo assolutamente nulla era il periodo dove lo leggevo veramente tantissimo e quindi insomma ho colto l'occasione al balzo per leggere l'arciere di Carrie fantasy classico direi molto molto piacevole secondo me ha parecchi anni ma secondo me è da recuperare assolutamente ha abbastanza qualche anno alle spalle ma è da recuperare assolutamente soprattutto se siete fan di Shadowhunters spoiler la relazione che non è una relazione eccetera vi suonerà molto familiare detto ciò l'arciere di Carrie racconta la storia di Alec che è proprio l'arciere di Carrie è un orfano che ha sempre vissuto in viaggio muovendosi con il padre ma che all'inizio del romanzo si ritrova in cella con Sergill un personaggio un po' ambiguo un po' strano che si nasconde e entrambi sono imprigionati e aspettano l'ora della morte ma riescono a fuggire e da lì inizierà una loro avventura che innanzitutto insegnerà ad Alec chi è veramente Sergill che sembrava uno stregone molto acchittato eccetera in realtà è un personaggio molto vivido brillante vivace eccetera e deciderà di prenderlo sotto la propria ala per farlo diventare un suo assistente e da lì si snoderanno tantissime avventure proprio perché nel mondo in cui ci troviamo sta succedendo qualcosa nell'ombra detto ciò chiaramente io odio parlare della trama perché penso che c'è Goodreads per quello non ci interessa detto ciò riprendendoli in mano con gli occhi di persona adulta devo dire che la serie è estremamente piacevole sicuramente perché si snoda bene la costruzione dei personaggi è eccellente davvero merita tutto perché è veramente ottima perché noi seguiamo un personaggio che non ci viene raccontato in un certo modo e poi si comporta in un altro ma anzi scopriamo il carattere del personaggio proprio perché seguiamo il suo modo di agire e quindi anche piano piano quando effettivamente qualcuno riconosce alcune caratteristiche del suo carattere eccetera eccetera noi chiaramente ci troviamo a casa sappiamo che è così ottimo davvero Sergile e Alec sono due personaggi molto molto interessanti soprattutto Alec penso sia costruito magnificamente nel suo essere abbastanza semplice abbastanza standard per alcuni versi ma assolutamente credibile e molto solido ottimo lavoro da questo punto di vista è la mia parte preferita in più tutta diciamo la vicenda che viene narrata dentro Nightrunner cioè che la serie il nome della serie forse non l'avevo detto a mio parere è molto avvincente è una storia che si snoda con tanti intrighi di sottofondo a me queste cose di politica intrighi cose sommerse piace piacerà sempre spiace io vivo per queste cose quindi insomma questa cosa mi è piaciuta moltissimo penso che il difetto principale del libro che a un certo punto mi ha anche annoiato perché gli ho dato tre stelline è che è tutto non prevedibile perché non lo è però tutto va dove vuole che dove vuole l'inflewelling cioè è tutto talmente chiamato lei dice che deve andare così va tutto così non troveremo mai azione fatta in modo che ci sia un'interruzione ci sia non so come dire un piccolo imprevisto cioè è tutto talmente fila tutto talmente dove vuole lei che è quasi troppo traghettato troppo e ci sono alcune parti dove è molto fastidioso secondo me perché insomma noi ci aspetteremmo qualcosa di un po' cioè meno prevedibile probabilmente ma otteniamo invece l'esatto contrario cioè sappiamo che lei vuole che arrivi lì cioè i personaggi fanno A B C D e va tutto secondo i piani secondo la volontà dell'autrice guarda caso compaiono piccoli tormenti a infastidirli ma questi piccoli tormenti vengono facilmente eliminati e si va avanti non c'è mai qualcosa che ti fa dire cavolo non mi aspetto che visto che l'obiettivo è quello vada così ecco questo è proprio secondo me il più grosso difetto di tutto questo romanzo che in realtà è molto avvincente infatti sono già in lettura con il secondo perché comunque è molto appassionante anche io che non sono interessata alle ship le non ship me frega niente mai devo dire che nel caso si sviluppassero certe cose le troverai credibili perché proprio c'è una costruzione molto forte dei personaggi e quindi non sarebbe tutta lì a caso ecco ma questo riguarda un po' tutto l'universo di ciò che noi seguiamo insomma io ve la consiglio assolutamente da iniziare mi dicono che il secondo terzo e un altro paio sono i migliori della serie quindi non vedo l'ora di andare avanti col secondo e poi passare al terzo ecco niente molto molto interessante come serie e ora che l'ho riletta devo dire che non mi ricordavo assolutamente nulla chissà che condizioni ho letto quella serie vabbè comunque niente Nightrunner volume 1 tre stelline ma tre stelline positive non tre stelline da meh ok andiamo avanti tra agosto e l'inizio di settembre ho anche finalmente preso in mano le streghe di smirne di Mara non ce la faccio mai Mara mei maridi mei maridi ok o mei maridi vabbè comunque racconta la storia della città di smirne ma non solo di una famiglia che ha a che fare che è molto legata alla città di smirne e proprio al fatto di essere considerati streghe che poi ci porteranno ai grandi eventi che hanno contraddistinto la città l'incendio la fuga l'evacuazione il genocidio eccetera di queste zone che purtroppo sono molto poco conosciute nell'immaginario popolare in realtà è una storia molto affascinante per certi versi perché smirne si trova esattamente a metà tra la cultura turca e la cultura greca e ha tante cose che la contraddistinguono insomma molto interessante ma a parte questo vi devo parlare della trama è una storia familiare quella che noi andiamo ad affrontare è una vera e propria storia familiare è la storia familiare di Eftalia e della figlia Calina che diciamo da poveracce scappate senza nulla eccetera ma con questo grande potere che le fa chiamare streghe da tutti proprio perché hanno un'intelligenza soprattutto Eftalia ha una grande intelligenza sia sociale ma anche proprio sa di strecarsi tra situazioni molto complesse compiono una vera e propria ascesa sociale nella società di Smirne e affronta una serie infinita di questioni che hanno a che fare sia con cosa significa innanzitutto la scalata sociale quindi il rapportarsi con la propria condizione il cambiamento che si subisce in una fase secondaria quindi gli errori da evitare ma allo stesso tempo ci si confronta anche con tantissime questioni che hanno a che fare con la sessualità con il matrimonio con i rapporti umani con l'amicizia con la guerra con l'odio è molto molto intenso e molto interessante da questo punto di vista devo dirvi però che io non sono una grandissima amante delle saghe familiari non mi dispiacciono ma non è tendenzialmente il mio genere in questo caso ovviamente io sono stata rapita dalla parola ovviamente streghe che era prevedibile come niente ecco diciamo che di streghe ce n'è molto poche e non che sia un difetto cioè insomma è chiaro che streghe è un appellativo però già non è la narrazione più avvincente del mondo è un susseguirsi di tanti piccoli episodi che creano una costellazione un po' come in tantissimi altri romanzi familiari è un libro piacevole molto davvero non vi sto scherzando soprattutto perché indaga su una società che non è che noi italiani conosciamo proprio a mena dito insomma sulla società greco-turca tra l'altro di fino a ottocento inizio novecento e poi dopo si sposta diciamo nel contemporaneo perché c'è tutto un espediente narrativo in cui viene ritrovato il diario proprio di Eftalia detto ciò la componente magica è molto molto secondaria che va bene a me è piaciuto è stata una lettura piacevole però sicuramente non esaltante è uno di quei libri che alla fine a mio parere trovi molto interessanti soprattutto dal punto di vista antropologico forse e questo mi porta anche a pensare che la May Maridy è una o May Maridy ancora c'è il dubbio è un'antropologa quindi quell'aspetto è indagato così bene che lo rende estremamente bello interessante e appassionante anche da un certo punto di vista ma la narrazione di per sé è molto fiacca molto meno brillante di quanto io mi aspettassi ecco questo non me l'ha fatto proprio adorare apprezzare al massimo detto ciò libro più che piacevole che io vi consiglio sicuramente anzi se siete appassionati di cultura greco-turca un po' come lo sono io perché sono malata di storia e soprattutto della storia che non ci cacchiamo nessuno di noi è affascinante da morire e quindi niente io ve lo consiglio tenetamente quello che vi ho detto poi magari fatemi sapere se lo leggete allora poi io ho letto due biografie musicali molto diverse tra di loro ma entrambe molto potenti a mio parere una delle due mi ha strappato il cuore e il fatto che ora non stia trovando il libro mi viene voglia di menarmi perché so che sarà in una borsa sparsa qua in giro per casa ma vabbè detto ciò partiamo invece dal fondo partiamo da Hunger Makes Me A Modern Girl di Carrie Brownstein allora Carrie Brownstein è la frontwoman delle Slytherkini che io spero che musicalmente voi le conosciate almeno cioè io do per scontato che voi conosciate chi siano le Slytherkini detto ciò è una punk rock band americana estremamente famosa e che veicola messaggi molto forti molto femministi da sempre praticamente quindi forse è anche questo che mi ha attirato molto in questa biografia una band che io seguivo moltissimo quando ero molto giovane quindi insomma mi ha fatto piacere leggerlo adesso lo appoggio perché sembro matta Hunger Makes Me A Modern Girl proprio racconta in maniera autobiografica la storia di Carrie partendo dalla sua infanzia e quindi cercando di indagare alcuni aspetti che le hanno provocato la crisi chiamiamola così anche in questo caso poi passando proprio per la nascita della sua band che cosa ha significato che cos'era la music in quell'istante in quel momento come la musica coincidesse anche con la sua evoluzione personale e che cosa rappresentasse e un'indagine anche sul movimento delle Riot Girls eccetera eccetera di ciò che ne era rimasto di ciò che invece è continuato come si è evoluto insomma come una persona che apparentemente non faceva parte di un disagio sociale fortissimo come Carrie sia comunque stata in grado di avvicinarsi al punk e a tutto quel movimento rock possiamo dire eccetera molto in maniera molto dirompente e salire sul palco distruggere il palco perché era una molla irrefrenabile e creare alcune delle canzoni che forse sono più rappresentative del femminismo diciamo nel mondo della musica soprattutto nella fase iniziale quindi nell'infanzia e nell'adolescenza noi capiamo un po' quali possono essere state le cose che hanno spinto Carrie a sentirsi inadeguata a sentirsi arrabbiata all'avercela col mondo a una storia familiare molto difficile perché Carrie viene da una famiglia apparentemente perfetta americana classica di provincia e si ritrova con una madre ricoverata continuamente e un padre che inaspettatamente fa coming out e questo la segna profondamente e dopo il divorzio dei genitori succedono una serie di cose che la portano anche a mettersi in discussione nell'adolescenza ad avere il rapporto molto complesso che si ha nel volere emergere nel non volere magari fare parte del mucchio e dall'altro lato però voler scomparire insomma sono tante emozioni diverse ed è stato molto interessante anche questo racconto molto crudo nel sempre mettere in luce gli aspetti più positivi ma anche proprio le contraddizioni di questi suoi pensieri senza vergognarsi in maniera molto limpida e proprio come mi aspettavo devo dire in maniera molto sincera e questo è stato molto molto bello e molto intenso una biografia che sicuramente consiglierei a tutti gli appassionati del genere anche a chi non è un grandissimo fan delle slitherkini perché soprattutto nella parte invece della seconda metà mette in luce tutte le contraddizioni che ci sono all'interno del mondo musicale soprattutto le aspettative di genere le discriminazioni di genere ciò che agli uomini è concesso fare ciò che alle donne non è invece concesso immaginatevi dentro il movimento riot girl il dire a qualcuno che non può fare cose o che non è bello abbastanza figo abbastanza sexy abbastanza il macello intenso e anche molto drammatico per certi versi davvero è un libro che mi ha continuamente fatto pensare non tanto solo all'ambiente musicale ma anche proprio a come concepiamo noi alcune cose come diamo per scontata alcune aspettative ecco bellissimo intenso e credo che insomma anche se non siete particolarmente appassionati di musica in questo libro troviate tanti spunti su cui riflettere che potrebbe essere la biografia di una qualsiasi ragazza di provincia che ha fatto qualcosa nella vita ecco e niente ve lo consiglio tantissimo dopodiché anzi prima in realtà ho letto una biografia che mi è stata gentilmente mandata da Tsunami Edizioni che è Trenny di Laura Jean Grace che forse qualcuno di voi io ho sempre speranza conoscerà come frontwoman e prima frontman degli Against Me band diciamo abbastanza famosa classica molto vicina agli ambienti post-core hard-core melodica insomma tutto quel genere un po' così legati al punk in qualche modo eccetera eccetera nella scena degli anni 90 e 2000 soprattutto ecco Laura Jean Grace ci racconta tantissime cose in una delle biografie che mi hanno più commossa è colpita che io abbia letto e questo è tanto io leggo tantissime biografie mi piace molto come mezzo e soprattutto quelle musicali in questo caso la musica è solo un espediente è un espediente che ha probabilmente rallentato la realizzazione di un qualcosa o che ha impedito probabilmente in alcuni versi anche la piena realizzazione di un pensiero che poi è diventata in realtà più che un pensiero è diventata proprio la scoperta della propria vera identità in questa biografia Laura ma ai tempi Tom racconta un po' la scalata al successo della band inizialmente e come la scalata e l'arrivo al successo di una band super underground eccetera che poi è stata tacciata anche di essersi venduta appena ha avuto quel po' di successo in più dai bassi fondi non si può uscire mai perché se esci è una tragedia nel mondo del punk vabbè è accostato a questa crescita della band anche una crisi sempre più profonda dal punto di vista personale che non era solo una crisi legata agli impegni legata alla musica legata all'incomprensione all'interno della band legata a tour estenuanti a relazioni che non funzionavano non era solo anche il rapporto con le sostanze era soprattutto un qualcosa che non riusciva bene ad elaborare sapeva ma non sapeva mettere a parole insomma la liberazione arriva forse con la vera e propria libertà cioè quella di poter dichiarare la propria identità poterla anche forse in primis conoscerla e capirla e non avere paura di affrontarla che detto così è molto semplicistico ma io mi rendo conto che avere a che fare con la rivelazione forse in primis per noi della propria identità di genere e il doverlo dire anche al mondo perché non sei una persona sconosciuta ma fai parte di una band che ha fatto spalla il tour dei Foo Fighters capito negli stadi più grandi di tutto il mondo a un certo punto ci sono troppe cose in ballo ci sono tantissimi dubbi che soverchiano anche la libertà no personale che possiamo avere ci sono troppe cose che ci mandano in crisi che poi dopo un certo punto non possiamo più gestire e controllare ecco e in questa biografia io ho veramente percepito come tutto ciò che succedeva e stava accadendo alla band e a Tom inizialmente erano solamente frutto della repressione dell'infelicità per non poter far capire a tutti che in realtà lei non era Tom ma era Laura Laura anzi in inglese e questo è stato atroce ve lo giuro è qualcosa di atroce riuscire ad assistere mentre lo stai leggendo per così tante pagine non lo so è davvero qualcosa che mi ha colpito profondamente io sono molto sensibile alle questioni dell'identità di genere perché mi rendo conto che nella nostra società è qualcosa di ancora inconcepibile no e davvero l'immedesimazione nei panni di qualcuno che si sente così attaccato così in un vicolo buio come se non potesse mai uscire perché non si può fare qualcosa che è porta solo all'autodistruzione e mi ha veramente commossa tantissime volte ho pianto in una maniera incredibile perché davvero credo che soprattutto questa biografia al di là dell'animo punk che ha ed è una cosa che ovviamente da appassionata di musica ho apprezzato anche l'essere così ruvida senza filtri non avere paura di raccontare tutto dalle sfighe alle cose più belle e comunque anche nelle cose più belle non riuscire mai ad essere felice perché c'è qualcosa che manca e quel qualcosa che manca rimane sempre la possibilità di essere liberi e di essere se stessi indipendentemente da quello che pensano gli altri e è veramente bellissima come biografia anche se non ve ne frega niente della scena punk leggetela leggetela perché è qualcosa di molto potente soprattutto per la questione dell'identità di genere e io da persona che assiste all'esterno a queste cose mi sentivo continuamente colpita e volevo fare qualcosa ero arrabbiata tanto quanto lo era Laura perché percepivo questa discriminazione costante nel non potersi svelare che mi ha veramente smosso qualcosa e niente basta perché sto blatterando da ore su questo volume che vi consiglio perché è bellissimo e io non lo trovo in questo momento sarà da qualche parte in una borsa che ci avrò fatto le foto e niente io ve lo consiglio tanto 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 è un libro bellissimo è una biografia bellissima che sicuramente fa la differenza dopo aver passato il trauma di Trenny perché è veramente vi ripeto che è stato bellissimo è uno dei miei più preferiti dell'anno sicuramente grazie 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 a Tsunami che me l'ha mandato e mi ha aperto gli occhi in un mondo che io non avevo neanche sentito che fosse uscita perché sono sciocca ok passiamo a tutt'altro tono a tutt'altro genere ovvero a Spin the Dawn di Elizabeth Lean da come mi suggerisce il mio appunto sul lato allora Spin the Dawn è una storia fantasy per ragazzi quindi è un young adult fantasy ci troviamo in Asia in un regno che possiamo assimilare alla Cina ma anche no e praticamente seguiamo la nostra protagonista che si chiama Maya che discende da una famiglia di Sarti bravissimi incredibilmente famosi che però piano piano con le sfighe familiari e l'invecchiare del padre decade mano a mano e a malapena riescono a permettersi di tenere aperto il negozio Maya però che non può lavorare come Sarta essendo una donna e quindi potendosi solo occupare della casa impara dal padre a cucire e di nascosto fin da piccola continua a cucire e diventa molto più brava di qualsiasi dei suoi fratelli arrivata la guerra però i suoi fratelli devono partire per il fronte e la bottega rimane senza qualcuno che la mandi avanti perché il padre più di tanto non può contribuire ma Maya sì la guerra creerà davvero delle ferite molto profonde all'interno della famiglia ma arriverà una notizia molto fortuita diciamo l'imperatore sta facendo una gara tra i migliori Sarti della nazione proprio perché il suo Sarto personale è morto e in questo caso Maya prende il posto del padre travestendosi da uomo e andando verso palazzo inizierà un vero e proprio project runway all'interno del palazzo che non risparmierà dei colpi e una una trafila dopo l'altro le verrà dato un task impossibile praticamente da completare e la metterà dura a prova e Maya parterà per un'avventura proprio per poter completare l'ultima prova ecco non vado avanti se no è molto spoiler allora Maya palazzo entra in contatto con Idan che è una sorta di mago reale che serve a proteggere il re si sa bene per quale motivo trova un certo tipo di interesse in Maya perché gli altri li trova molto disonesti lei la trova molto più pura la scopre scopre che è una donna e da lì inizierà ad aiutarla ecco la situazione prevedibilmente potrebbe evolversi si evolverà e niente diciamo Spindadown io l'ho iniziato con l'idea che mi avrebbe fatto schifo nel senso che ero già pronta a una storia molto banale molto prevedibile scritta male eccetera eccetera invece mi ha sorpresa positivamente gli ho dato tre stelline credo tre e mezzo ecco perché in realtà è una storia che ha un sacco di potenziale e Elizabeth Lane la terrò sicuramente d'occhio per le prossime uscite soprattutto anche per il secondo volume di questa duologia o trilogia duologia secondo me è una storia concepita in maniera molto interessante non banale scritta in maniera molto semplice diciamo senza cedere senza fare strafalcioni insomma è tutto molto lineare i personaggi sono lineari magari non i più complessi e più stratificati della storia ma comunque piacevoli in fondo è un libro per ragazzi scritto per ragazzi in una maniera che secondo me non toglie nulla al fine della storia la storia è interessante innanzitutto cosa non banale e diciamo che a mio parere non è gestita meravigliosamente ecco ed è quello che un po' crea diverse pecche perché ci sono tanti elementi interessanti tanti elementi che avrebbe potuto svolgere meglio una distribuzione molto più lenta e più articolata diciamo per non fare spoiler soprattutto della seconda un po' prima della metà a tutta la seconda metà perché tutto sappiamo che è solo una fase transitoria diciamo tutta questa fase centrale e in realtà avrebbe potuto creare qualcosa di veramente molto epico e anzi devo dire che ci sono elementi un po' ingenui forse e un po' stereotipici che poteva tranquillamente lavorare meglio ed eliminare come ad esempio la parte romance io di solito sono abbastanza infastidita del romance soprattutto perché in questo caso Eden ha molto in comune con il darkling inizialmente e quindi io ero già mi piace in realtà poi la parte più misteriosa che non si è ben capito perché venga inserita si perde poco dopo cioè dopo diventa standard dopo non succede niente di quella parte un po' misteri che è un peccato perché in realtà è un personaggio che avrebbe molto potuto vivere su questa dicotomia tra mi fido non mi fido è buono è cattivo così non lo so non mi ha fatto impazzire c'è anche una serie di difetti davvero penso di avere elaborato tutto come avrei voluto vederlo ci sono molti elementi migliorabili detto ciò rimane molto piacevole se volete leggervi qualcosa di leggero interessante avvincente ve lo consiglio molto perché la prima parte è molto migliore della seconda vi avviso però ci sono tanti elementi interessanti e secondo me se elisabeth len avesse per il futuro la possibilità di avere più tempo o di un editor che magari dà una mano proprio a far capire dove deve andare tutto secondo me lei tirerà fuori delle cose super interessanti anche perché comunque non è banale il setting non è banale tutto ciò che c'è dietro perché è abbastanza universale anche se ha quei tratti orientali che comunque è un po' anche ora che iniziamo a rileggere viene venduto tra l'altro come Mulan incontro a Project Runway in realtà quella è una storia proprio molto iniziale poi non ce ne frega più niente perché poi andiamo oltre insomma però tenetelo d'occhio io ve lo consiglio se volete una lettura per ragazzi piacevole non troppo impegnativa ma con dati spunti interessanti ecco quindi anche questo ve lo consiglio dopodiché ho letto un libro del quale non so come parlarvi perché devo fare un po' di premesse allora sto parlando vabbè andiamo dunque sto parlando di sesso droga e lavorare dello stato sociale che mi è stato gentilmente inviato da Alberto cioè inviato mi ha dato in mano Alberto dello stato anzi l'ha dato in realtà Mr. Fiction perché io ero a lavorare e si sono andati vabbè morale morale della favola io ho un rapporto personale con lo stato quindi non ho un parere oggettivo di questa cosa soprattutto perché leggendolo io mi sono resa conto chi ha scritto cosa che è una cosa assurda o almeno ce ne ho un'idea abbastanza secondo me precisa peraltro tranne nella seconda metà che sono un po' più dubbiosa ma nella prima ne ho abbastanza la certezza tutto ciò per dirvi che a me è un libro che è piaciuto perché mi ha colpita positivamente è un'indagine diciamo attraverso la storia di Arturo quindi un ragazzo praticamente come noi che affronta la fine delle superiori l'università la vita i primi conloqui di lavoro la difficoltà nel trovare un mondo del lavoro e grandi rivelazioni diciamo future su come progettare il proprio futuro su come provare a rapportarsi da un mondo del lavoro che difficilmente ti dà delle risposte ti fa sentire adeguato ecco è un'indagine soprattutto sulla nuova generazione quindi posso farmi coincidere con nuova generazione quindi praticamente chi ha la mia età quindi metà più vicina anche a quelli dello Stato che sono più vecchi di me e tutte le generazioni che vengono a cascata che vengono dopo che stanno affrontando questo dramma sociale perché per me il fatto di non trovare lavoro avere pochissime tutele per il lavoro è un dramma sociale non si trova cioè non posso descriverlo in nessun altro modo detto ciò lo appoggio quindi cosa mi è parso brillante mi è parso brillante perché la storia di Arturo affronta sia la parte sulla giovinezza proprio la parte diciamo più legata alle superiori e all'università senza tante remore senza tanti fronzoli no affrontiamo proprio ciò che vive un ragazzo di oggi che magari non ha grandi ambizioni non sa quale sia il suo destino perché comunque non tutti nascono con un grande sogno anzi penso che la maggior parte delle persone non abbia ben chiaro cosa voglia fare nella vita soprattutto in questo momento storico perché è difficile avere un sogno e realizzarlo ecco e quindi seguendo Arturo noi seguiamo un po' la generazione di giovani che sperimentano sperimentano con il sesso sperimentano con le sostanze sperimentano anche con la vita lavorativa e su cosa possono fare sperimentano con l'università addirittura perché si sa bene un po' come vanno le cose e poi si entra nel mondo del lavoro e lì c'è proprio lo shock l'idea di non avere nessuna tutela nessunissima certezza ho trovato Trenny l'ho trovato ora la vostra youtuber preferita e quindi dicevo certezze che non ci sono non c'è nulla di certo e quindi anche tutte le scelte che vengono di conseguenza le relazioni la famiglia il costruirsi una vita non sono per nulla scontate per nulla delineate ecco anche perché forse la generazione dei nostri genitori e probabilmente parlo più dei miei poi i miei no nello specifico i miei genitori però altri insomma quelli che conosco sono magari stati più inquadrati e il lavoro fisso eccetera eccetera e una carriera già prestabilita e se non prestabilita più o meno continua ecco e si trovano ora a fare i conti con una generazione invece che non può sperare assolutamente nel posto fisso né nel sperare di fare lo stesso lavoro per tutta la vita comunque questo è un grande preambolo per capire un po' cosa c'è all'interno del libro e i ragazzi in questo libro si immaginano un rapporto molto stretto tra automazione e tecnologia che sostituisce l'uomo e che in qualche modo si pone l'obiettivo di risolvere tutti i problemi del mondo del lavoro non vado avanti perché comunque se no vi ceriamo un po' il succo del discorso allora cosa mi è piaciuto mi è piaciuto molto il fatto che avessero loro ce l'hanno ovviamente molto chiaro quello che sta vivendo la nostra generazione in primis forse perché siamo stati primi del post crisi a tutte le generazioni che vengono in poi no a me viene sempre da dire che siamo una generazione che ha perso la possibilità di sperare perché siamo diventati molto pessimisti e pragmatici che è molto vero secondo me applicato a tantissime persone soprattutto chi non ha la grande fortuna di potersi permettere di sperimentare ma deve portare a casa la pagnotta mi è piaciuta l'intuizione di provare a vedere come un mondo regolato dall'automazione dove non si dà valore praticamente alla persona umana sia tutto ciò che impoverisce ovviamente la società eccetera mi è piaciuto molto questo aspetto a livello di stile e questa è una grande premessa penso che lo stile sarà la cosa che per molti sarà lo spartiacque ok c'è chi lo odierà a morte a morte proprio chi ha la terza riga strabuzzerà gli occhi e chi invece capirà ciò che viene narrato insomma questo ragazzo c'è Arturo parla come un ragazzo bolognese di vent'anni e affronta le sue difficoltà si approccia alla vita senza volersi elevare ma anzi è proprio il tipo di linguaggio che insomma mi ricorda per alcuni versi prendetelo con le pinze molte pinze moltissime Jack Frosciante è uscito dal gruppo nel senso che Brizzi in quel caso aveva fatto un'operazione da narratore esterno quindi non parlando attraverso gli occhi di uno dei suoi personaggi però raccontando i ragazzi cioè raccontando la gioventù bolognese ecco in questo caso Arturo rappresenta un po' quello poi il suo linguaggio è quello si rapporta agli altri in una maniera che io mi riconosco molto ovviamente perché sono cose che ho vissuto anch'io e questo potrebbe creare distanza con chi non ha presente questo tipo di cioè non so come dire l'essere un giovane bolognese ecco dall'altro lato però non potrei averlo letto in nessun altro modo la storia di Arturo è la storia raccontata attraverso il linguaggio e i modi di Arturo perché sono i nostri quindi bisogna fare questo grande sforzo io mi sto cioè cercando di ragionare su questa cosa detto ciò a me è piaciuto io gli ho dato tre stelline e mezzo non mi ha esaltato ovviamente perché mi manca la soluzione finale sono arrabbiata per questa cosa però molto 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 piacevole davvero mi ha stupito positivamente non perché non avessi fiducia nei ragazzi ma perché avrei cioè non so come dire pensavo visto i precedenti che avrebbe creato più difficoltà in realtà devo dire che superata la questione del linguaggio che è un salto che bisogna fare cioè bisogna abbracciare questo tipo di impostazione se non si capisce la chiave di lettura e detto ciò invece secondo me è molto piacevole da moltissimi spunti molto lucidi molto più lucidi di tanti altri signoroni che invece sicuramente riescono a restituirci un linguaggio un po' più cesellato un po' più accorto ecco la condizione del lavoro e la condizione giovanile degli italiani sotto i 35 anni ecco l'ho apprezzato tanto penso che sia una delle cose più lucide che abbia pubblicato una casa editrice italiana riguardo alla situazione italiana niente io chiaramente ve lo consiglio chiaramente e niente direi che passiamo al prossimo libro altro libro che ho letto è The Testaments di Margaret Atwood ma ho girato un lungo video di recensione che vi linko qua e se la mia programmazione e la mia testa è quella giusta prima esce la recensione di Testaments poi esce questo video vediamo quanto riesco a fare dei danni detto ciò The Testaments a me è piaciuto con riserva quindi vi lascio al video e passiamo all'ultimo titolo di oggi finalmente che è un titolo ma non è un titolo è Strangers in Paradise di Terry Moore che io ho scoperto tardi tra l'altro ho scoperto grazie a Sergione che è uno di voi della community che me l'aveva suggerito tempo fa so che forse arrivo late to the party tardi alla festa ma non so come dire l'idea di averlo iniziato quest'estate e di essere già al terzo volume non li sto mangiando perché mi rendo conto che ogni volta che ne finisco un volume mi piange il cuore e Strangers in Paradise è complesso da descrivere per chi non lo conosce anche io quando mi ci sono approcciata non riuscivo bene a capire che cosa fosse comunque conosciamo Caciu e Francine ed entriamo nel loro mondo che è fatto di tanta quotidianità ma anche tanta follia e soprattutto e visceriamo nel profondo le relazioni tra le persone indipendentemente da cosa e se siano amicizie amore odio conflitto insomma Strangers in Paradise è forse la cosa più vera e reale che abbia raccontato la difficoltà nelle relazioni nelle incomprensioni e aspetti magari molto marginali che non consideriamo o che ci creano conflitti continui in una maniera cruda mai troppo edulcolorata mai senza nascondere nulla mi ha rapito al cuore mi ha rapito davvero il cuore perché è molto molto intensa e pur avendo situazioni magari estreme situazioni dove che non tutti viviamo anche perché davvero Caciu è pazza però nonostante noi assistiamo a tutta quella intensità nel personaggio di Caciu comunque nella situazione in quello che stanno vivendo tutti i protagonisti di questa storia noi lo capiamo noi riusciamo a immedesimarci e dietro questa copertina c'è scritta una frase di Neil Gaiman che dice che tutto ciò che le persone non sanno sulle relazioni sul sesso eccetera eccetera lo possono scoprire dentro Strangers in Paradise e qua c'è tutto quello che dovete sapere e devo dire che essendo arrivato al terzo volume mi sembra sempre più vera questa frase mi sembra qualcosa di così semplice per descrivere il mondo di Strangers in Paradise che non è un mondo fatto di non so come dire di trama perché trama c'è ma non è quello l'importante e quindi lo consiglio davvero tantissimo e spero di farci un video al riguardo in maniera molto più dettagliata so che ripeto sono l'ultima che l'ho letto sulla faccia della terra ma se anche voi non l'avete fatto fatevi questo favore iniziate questa serie incredibile io ringrazio tanto la Bao che ha fatto anche questa edizione insomma collection incredibile davvero una serie incredibile niente per oggi è tutto perché sono esausta e quindi niente vi ringrazio tantissimo per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero che i titoli che vi ho suggerito o dei quali vi ho parlato vi abbiano comunque interessato e colpito se avete letto qualcosa o se qualcosa vi incuriosisce ci troviamo giù nei commenti così ne chiacchieriamo insieme e io vi ringrazio ancora e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao